E' tornato a riunirsi ieri sera il Consiglio Comunale di Giarre, una seduta durante la quale la maggioranza ha approvato l'adeguamento degli oneri concessori per l'anno 2016. Il consigliere Leo Patanè, supportato da Vittorio Valenti, ha sollevato dei dubbi sulla legittimità dell'atto, dato che la proposta di delibera era vecchia perché doveva essere approvata entro ottobre e quindi andrebbe riformulata. Altre incertezze sono emerse per l'approvazione del regolamento sul centro di urno, votato poi all'unanimità. Abbiamo avuto due commissioni a gennaio dove abbiamo attentamente letto il regolamento e ieri in Consiglio avevamo portato 13 emendamenti da votare. In più sono stati votati altri due perché il consigliere Patanè ne ha presentati altri quattro, di cui noi ne abbiamo votati due. Dimostrazione è il fatto che la maggioranza vota gli emendamenti dell'opposizione e che quando si lavora bene insieme non abbiamo nessun problema a votarli. Quando pensa che finalmente verrà attivato il centro di urno? Penso nel più breve tempo possibile perché già l'assessore si sta attivando a fare partire il bando. Il civico consesso ha anche approvato all'unanimità un atto di indirizzo proposto da un altro consigliere di opposizione, Antonella Santonoceto, per la creazione di un conto corrente bancario che aiuti i cittadini in difficoltà. Durante l'attività ispettiva si è tornato a parlare delle condizioni in cui versa il cimitero. È stato il consigliere Fabio Di Maria a sollevare la questione dopo i crolli avvenuti all'interno di alcuni edifici da tempo pericolanti. Sempre Di Maria ha chiesto a nome di tutta l'opposizione una seduta urgente di consiglio aperta alle categorie danneggiate dal blocco dei nuovi allacci fognari. Patanè invece ha denunciato l'arrivo a parecchi cittadini di lettere in cui il comune chiede il pagamento di tasse già pagate. Un problema che sussiste da anni, ha detto il sindaco Angelo Danna, causato da sistemi operativi non adeguati e che non è facile cambiare.